Mister, buongiorno, ciao, ti chiedo le tue sensazioni dopo una settimana con tempistiche diciamo così più normali, più adeguate per preparare una partita dell'importanza del match di domani. Abbiamo avuto qualche giorno in più certamente, però venivamo da tre partite, quindi è la partita si gioca non la domenica ma il sabato, quindi c'è stato qualche giorno in più, però è chiaro che dovevamo considerare le tre partite, per noi questi tre giorni sono stati importanti perché ci rendiamo sempre più conto, insomma conosciamo sempre meglio i giocatori, le persone e i giocatori della loro qualità. Ti chiedo invece come ha reagito la squadra dopo, possiamo definire un doppio colpo, quello di domenica scorsa, sia l'infortunio di Berardi che la sconfitta, insomma come è stato assorbito questo doppio mini shock che avete incontrato domenica scorsa? Beh intanto penso, abbiamo detto, la partita contro di Verona, il Sassuolo non verità di perdere, mi sembra abbastanza chiaro, quindi la squadra per me in campo, in campo ha fatto vedere che c'era, copriva bene il campo, non siamo stati così pericolosi come credo non è stato il Verona e l'infortunio di Berardi, questa per me deve essere una grossa spinta per tutti noi a fare un po' di più. Buongiorno mister, domani affrontate una squadra come il Frosinone che ha dimostrato di avere diverse idee importanti in avanti ma che concede insomma qualcosa di troppo in difesa, come avete improntato questa partita? È una squadra certamente che è abituata a giocare, sono anni che giocano così, sanno dall'inizio che devono fare un campionato e per loro, la vittoria del campionato per loro è rimanere in Serie A e quindi è una squadra che diciamo così si è consolidata nel tempo e sanno benissimo qual è il loro obiettivo e noi bisogna che siamo in questo senso, diciamo così, nel gioco e nelle motivazioni siamo bravi quanto loro, poi vediamo chi riesce ad avere la vita. Buongiorno mister, buongiorno, nel post di Verona, ripartiamo da lì, tra le altre cose ha detto, cambieremo qualcosa, cambieremo anche probabilmente nella sistemazione in campo, chiedo questo, cambieremo qualcosa con questo Sassuolo che è una tra le squadre che prende più gol o meglio concede delle opportunità e sta lavorando su questo, è una delle certezze che necessita questo gruppo, secondo l'altro crescere in un atteggiamento differente di fronte a questo tipo di problema. Allora, cambieremo qualcosa, era riferito al discorso di Berardi, perché non avendo Berardi è chiaro che le caratteristiche si può cambiare, è chiaro che bisogna rispettare le caratteristiche dei giocatori che ci sono al Sassuolo, bisogna esaltarle, e poi mi sono dimenticato la domanda... Il discorso del gol, perché... Ah, il gol subiti... Il gol subiti... Sì, delle situazioni, a volte sono episodi anche per errori dei simboli... Sì, ma quello è chiaro che ci può stare, è chiaro anche che a certi livelli bisogna farne sempre meno, perché se tu li fai in Serie B o in Serie C, magari certi errori riesci a rimediarli, in Serie A fai fatica a rimediarli. Ma quello che noi ricerchiamo è la compattezza, la solidità. Contro il Verona, per me, il Sassuolo è stato bene in campo, ha concesso poco o nulla, tant'è che il gol del Verona è venuto su palla che avevamo noi, su un disimpegno nostro sbagliato. Quindi noi ricerchiamo la solidità, l'equilibrio e poi la qualità, l'imprevedibilità, la profondità, perché bisogna mettere in difficoltà gli avversari, bisogna mettere in difficoltà i difensori avversari. Come li metti in difficoltà? Li metti in difficoltà non dando punti di riferimento e attaccando la profondità. Questo per me sono i due aspetti fondamentali. Non dare punti di riferimento e attaccare alle spalle dei difensori centrali quando è chiaro si può attaccare la profondità. In questo senso, e chiudo, anche non utilizzare tutto il fronte d'attacco, provare a giocare con due uomini e una punta, cercare di creare zone di conflitto in quella zona centrale della difesa avversaria può essere un'idea nel cambiare? Può essere che magari quegli spazi che tu lasci liberi sono spazi dove devi attaccarlo con la corsa, può essere questo. Dopo, come ho detto, per me è importante non dare punti di riferimento nel cambiare. Quindi è importante essere un po' meno prevedibili di quello che si è visto contro il Verona e poi più verticalizzazione, bisogna verticalizzare di più il gioco e accompagnare di più con i compagni, con i giocatori dietro. Parlo dei cittrocampisti e dei difensori. Grazie. Prego. Un giorno mister, come ci parlo a Sassuolo News. A Verona, il Sassuolo ha battuto 11 corner, in Verona 2. Tanti, a mio giudice, sono stati battuti veramente male, soprattutto dall'Oriente. Ci ha lavorato già? Cambierà chi va la battuta, non lo so? Ma noi, il giorno prima, abbiamo battuto perché facciamo sempre calci piazzati a favore e contro. E il giorno prima, nei piazzati a favore, proprio battuti dall'Oriente, abbiamo fatto 4-5 gol. Quindi, dopo che c'è la tensione della partita, le cose un pochettino cambiano. Però, ecco, è vero che abbiamo battuto tanti calci d'angolo. E bisogna, anche lì, che siamo un po' più attenti, un po' più cattivi, perché non ci regala niente nessuno. E quindi, se tu sei così, non così concentrato, non così determinato, non crei difficoltà agli avversari. Restando sempre un tema Verona, Matteo Sanrici è riduce da due errori. Anche con il Napoli, aveva sbagliato, regalando proprio il corretto un pallone agli avversari. Come l'ha visto in settimana? No, Matteo Sanrici è un ragazzo intanto intelligente, intanto serio, e quindi sa che è chiaramente molto dispiaciuto per quello che è successo, ma l'avete visto anche voi. Però bisogna andare avanti, bisogna andare avanti, quindi gliel'abbiamo detto, tutti gliel'abbiamo detto, i compagni, noi, sbagliare si può sbagliare, non è quello. L'importante è avere l'atteggiamento, lo spirito giusto per cercare di fare meglio. Neanche se ne ha parlato tanto. In settimana è arrivato il colonnello dello staff, chiedo chi ha volo avrà e chi ha volo avrà. È un collaboratore tecnico perché in campo abbiamo tanti ragazzi che hanno, diciamo così, dei compiti specifici e avevamo bisogno di un collaboratore tecnico. Grazie. Prego. Salve, mister, buongiorno. Sicuramente è una partita molto importante e delicata. Come sta la squadra, come moralmente, fisicamente anche, perché contro il Verona ha dato delle buone risposte, però è mancato quel pizzico di cinismo, di praticità, programmatismo. A parere mio alla squadra, a me sembra che la squadra stia bene. È chiaro che è un momento così, dove le cose pesano un pochettino di più. Quindi perché non sei bello, rilassato, hai, diciamo così, delle difficoltà da superare. Ma è bello, è bello per una persona, un ragazzo. Fai questa professione, giochi a calcio, è bello avere difficoltà, insomma avere tante difficoltà e poi riuscire a superare tutte queste difficoltà. È molto stimolante e quindi noi abbiamo questo di fronte. Le difficoltà, ma sappiamo anche che abbiamo le qualità individuali. Abbiamo le qualità come squadra. Abbiamo una società che è una società comunque molto importante. Quindi tutto questo, tutto questo ci porta a dire che ci siamo noi e le difficoltà ci sono e sappiamo anche, conosciamo anche il modo per superarle queste difficoltà. Perché, poi finisco, nella vita di cose facili non è che ce ne siano sempre, cioè non è sempre tutto facile. Le persone, quelle persone vere, vengono fuori, per le persone che sono e per le qualità che hanno, vengono fuori anche, soprattutto, nei momenti delicati, nei momenti difficili. E questo è un momento delicato. Mi sembra un po' diversa rispetto alla scorsa stagione, quando sostanzialmente nella lotta per non retrocedere sono state quasi sempre con i World Finder, inizio, solo quattro squadre. Quest'anno ce ne sono sei in due punti e poi ci siete voi appena staccati i tre punti. In questo turno di campionato ci sono tre scontri diretti. Insomma, è una classifica che, volendo leggere in senso positivo, dà comunque ancora tante chance, insomma, lascia aperte molte strade. Sì, è vero, sono coinvolte più squadre, ma bisogna pensare a una partita alla volta. Verissimo tutto quello che hai detto, ma l'attenzione nostra è alla partita che abbiamo domani. Quindi, il fatto che ci siano tante squadre coinvolte, questo ti dà, diciamo così, una spinta ulteriore, no? Per rimanere dentro quel gruppo lì, per giocarti alla filografia. Allora, intanto chiedo se ritorno a Toglian, perché in questa squadra con quella catena di destra è significativa, e se può anche lavorare nei tre o se può lavorare, io sto pensando, un tre, quattro, tre, cinque, quindi poi i numeri pagano, lascia il tempo che trovano. E l'altro discorso, proprio per chiudere un concetto importante, ora bisogna prendersi delle responsabilità, non trovare alibi nelle difficoltà, vedere che uomini di calcio vogliamo essere, ecco, la responsabilità di essere il vice del Berardi, su quali spalle va? Allora, diciamo gli infortunati, quindi magari dovremmo dirlo subito, Toglian non c'è, non c'è, vabbè Viti lo sapete, abbiamo Pedersen che ha un po' di febbre e quindi è rimasto in hotel, questi sono, vabbè, Domenico lo sapete, un bull si è allenato oggi, vediamo un po' come sta, e questo è il discorso degli infortunati e dei dubbi, diciamo così, dei disponibili e dei non disponibili. Il discorso di Domenico riguarda tutti noi, tutti, cioè riguarda tutti noi, e anche questo, avere Domenico, avere Berardi, io gliel'ho detto, sono il tuo allenatore, cioè non to' mai Renè, io vado, una volta che ti avevo lì, ho visto due allenamenti e mi sembravi piccoli, ho fatto un esempio, sono un grandissimo giocatore, poi niente, dopo due allenamenti, un tempo e mezzo, niente, non lo posso utilizzare. Quindi il discorso di Domenico, siamo tutti, 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 a partire dallo staff tecnico, alla squadra, tutti, bisogna che ci prendiamo tutti più responsabilità, ecco, perché è giusto così. Grazie, grazie a voi, buona giornata.